Ascolti, signora, un bravo ragazzo come il suo non scompare così nel nulla. Mio figlio non è così, avrebbe sicuramente chiamato, non è da lui. Conosco Dani, al segno ho dato delle lezioni l'anno scorso. Noi insegnanti capiamo un sacco di cose senza aver bisogno di parole. E si confidava con lei? La sua famiglia lo soffoca. Non so perché le abbia detto così. Forse è lui a influenzare mio figlio con queste strane idee. Se fai queste ricerche pensa di trovare il suo cadavere nel bosco? Perché ha utilizzato la frase il suo cadavere nel bosco? E dove tiene le sue lezioni? Ha uno studio tutto suo? Generalmente lì sul tavolo e qualche volta anche in cantina. In cantina? Una negligenza che noi abbiamo commesso fin dall'inizio di questa indagine. Abbiamo creduto alla madre. Perché pensi che questa donna menta, eh? Una donna che sono vent'anni che sta lottando. Vieni, fermo! Berta! Suo valido non le ha mai parlato di Dani? Io non comprendo il perché di queste domande. Ora mi alzo e vado io. Ti ha seduto, seduto! Penso di avere dei diritti che lei non sta considerando. Segue la pista sbagliata, comandante. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!